Si susseguono le ufficialità per quanto riguarda gli arrivi in Casa Spezia. Quest'oggi è stata la volta del portiere Raffael, un portiere di grande esperienza, 38 anni per lui, nelle ultime stagioni alla Cagliari, ma in Italia già dal 2007-2008, dove giocò diverse stagioni sia di Serie C che di Serie B e poi successivamente di Serie A con l'Ellas Verona. Un portiere di affidamento che l'anno scorso ha giocato titolare alcune gare anche nella Cagliari. Va a fare il secondo di Zoet, ma diventa l'accoppiata di portieri dello Spezia, un'accoppiata comunque di grande esperienza e affidamento. Per quanto riguarda le altre novità dal punto di vista del mercato, si registra ancora la necessità di un po' di tempo per alcune delle situazioni, però sono la gran parte già fatte, come quella riguardante il centrocampista De Iola, l'attaccante Farias, si aspetta l'ufficialità che potrebbe arrivare domani dopo le visite mediche. Per quanto riguarda invece Nawal Estevez, il centrocampista delle Studiantes, sta arrivando in Italia, per lui ormai tutto fatto, prestito oneroso, con obbligo di riscatto se giocherà almeno il 70% delle gare. Si arena un attimo la trattativa invece per Daniele Verde con la EK di Atene, che non vorrebbe più darlo in prestito, ma vorrebbe a questo punto venderlo totalmente. Lo Spezia ci sta pensando a seconda di quelle che poi saranno le pretese che avrà la società greca appunto sul giocatore. Vanno avanti anche le trattative per quanto riguarda Jorrit Hendricks, che è il giocatore olandese centrocampista, anche per lui lo Spezia dovrebbe sborsare dei quattrini per acquistarlo, vedremo se arriverà. E poi in giornata invece si è registrato un deciso passo avanti per il difensore del Torino, Coffi Gigi, che probabilmente ormai sarà un giocatore dello Spezia, anche per lui potrebbe essere domani la giornata buona. È un difensore centrale che va a chiudere così il novero dei difensori centrali della formazione di Mister Italiano. Ultima cosa, altro giocatore che lo Spezia sta trattando e che potrebbe essere vicino ad arrivare è l'attaccante del Bologna Federico Santander classe 91, per lui italiano stravede per il suo modo di giocare e anche per i gol che ha saputo realizzare nella stagione precedente, non l'ultima ma quella precedente, 8 gol in 32 gare nel Bologna. Si può fare, se ne saprà di più anche per lui nella giornata di domani.